Finisce 83-74 per Rimini, uno scontro salvezza che Chieti non ha interpretato al meglio, presidente Marchesani, la fiammata nel quarto finale fino al meno 4, poi cosa è successo? Oggi abbiamo giocato una pessima partita contro una buonissima formazione, abbiamo giocato veramente molto male, una prova che non mi è piaciuta, non mi ha soddisfatto, ho visto tanti giocatori che non hanno dato quello che dovevano dare, chiaramente per indossare la casacca del Mocambo Chieti bisogna dare molto di più rispetto a quello che ho visto oggi, noi abbiamo un obiettivo molto importante che è quello della salvezza, sinceramente non mi è piaciuto l'approccio di tanti di loro, di tanti giocatori, sicuramente parlerò dalla squadra perché così non va bene più. Presidente, anche perché è un peccato, dopo tante prove positive non c'era stato il successo, ma ad esempio a Bologna si era vista una grande squadra, questa sera proprio si è percepita un'altra Mocambo. Oggi abbiamo giocato proprio all'esatto opposto di Bologna, giocatori che non hanno messo grinta, sangue, non hanno messo impegno in mezzo al parquet, si vince dai 51 punti che abbiamo preso nel primo tempo, quindi sicuramente c'è da correggere qualcosa e parlerò dalla squadra. In chiusura correggerete qualcosa anche a livello di roster con il mercato? A questo punto credo che sia veramente opportuno, sicuramente andiamo sul mercato, vediamo un attimino che cosa c'è in giro e faremo delle opportune valutazioni.